Si sta proprio dicendo al vecchio video, quello di prima, che lo caricherò, che la leggiana, la, un attimo andiamo a leggere, lo metto qua su Instagram, perché non mi ricordo un nome, non è strano, però non me lo ricordo questo nome, sta fiovento, è tutto affetto, sto facendo questo video, e allora, ma mai che sto già a casa, sto già a casa, possiamo dire che, attento, mi dico a queste squadre che va di essere, in serie B, allora, la leggiana, la leggiana, la leggiana, la ferra pisarò, vanno in serie B, in serie C, non è finito il campionato della serie B, poiché ci va il prece, per neaventare la spalla, e in serie A, B, in serie C, in serie B va la cremonese, il verona e la sabedoria, ragazzi, però, questo video, lo termino qua, ci vediamo, l'ultima giornata della serie A, e l'ultima giornata della serie B, e poi, se saranno altri giornamenti, chi va in serie B, e la serie C, ve lo dico, ve lo dico, ve lo dico, ciao, sotto la pioggia, sotto il pio vento, e... Grazie. Grazie.